Sognavo di andare a Hollywood, più che altro sognavo di andare a Broadway per fare musicals tipo Rogers, Gershwin, Coldport. Questo era il mio sogno e poi l'idea di fare musica da film. Però l'occasione non veniva. Arriva Pugliavati che dice voglio proporre questo film, mi ricordo era una sera d'estate e mi parlò di questo film Balsamus. La cosa più importante da dire è che Pugliavati nel raccontare i suoi film è un genio. Se lei ascolta il racconto di un film di Pugliavati va in tilt, entra in questo mondo magico inventato da lui che è una cosa incredibile. Per cui un entusiasmo alle stelle, soldi pochissimi o zero qualche volta, grandissimo entusiasmo e grandissima collaborazione. In questo clima abbiamo fatto Balsamus, che è un film che andò malissimo purtroppo, dove io feci una discreta colonna sonora e poi seguì Thomas, l'inde, ci hanno voluto chiamare l'inde Mognati, che era una cosa un pochino meno, un po' strana così, però insomma che mi ha dato il desto di fare discrete musiche. e poi cominciarono i film più grossi, la mazzurca del barone a Santa, il figlio Fiorone, con Tognazzi, per cui Tognazzi amò molto la mia musica, in quel film mi ricordo, e io ero molto molto contento di procedere in questa situazione. E dopo questo seguì Bordella, che purtroppo fu cassato il giorno dopo, è stato un colpo mortale a noi, che abbiamo lavorato tanto, e lì fu veramente, insomma, ho toccato con mano il cinema vero, insomma, con i quadro e i mezzi. Essendo stato chiuso il primo giorno, per la Eurofilm, per la Euro è stato un colpo quasi mortale, già la Euro stava in cattive acque, questi 500 milioni che sono partiti per questo film, è andato, se non la borta finale, ma insomma hanno contribuito molto a far finire questa cosa. E poi in questa situazione entrò anche Engel Gualdi, in quanto Engel Gualdi, siccome bolognese, amico mio, grandissimo clarinettista, regalò un clarinetto a Pupiavati. E Pupiavati mi disse, senti, ma possiamo fare la musica come Engel Gualdi? Dico, prima mi ha detto facciamoli suonare il clarinetto, e dico, ma io non vedo il clarinetto in questa circostanza qua, dice, vabbè, fallo, fallo, metticelo sto clarinetto. E allora io ho composto per clarinetto questa cosa, e venne Engel Gualdi e insomma richiese di essere il coautore del pezzo, e io disse, ma perché deve essere il coautore, lo scritto io il pezzo, tu suoni. Dice, ma io non suono se non sono coautore del pezzo, dico, va bene, ho chiamato Bando Maestini, che era un grandissimo clarinetista che fece l'esecuzione. E saputo questo, Gualdi arrivò il giorno dopo e lo rifece. E a un certo punto, per quieto vivere, abbiamo firmato insieme questo pezzo e gli ho fatto firmare anche la copertina. In compenso non c'è il mio nome, quando nel disco che c'è, c'è scritto Engel Gualdi, la mazzucca del barone, e vabbè, ognuno fa le cose. E la stessa cosa è successa dopo per il film seguente, che era Le strelle nel fosso, che era un film un po' particolare, ma dove credo di aver fatto una bella musica. E là c'era un quartetto d'acchi molto carino, che è stato rovinato da un secondo violino, adesso darà male, ma comunque la musica c'era e credo che fosse buona. Poi cominciarono le serie televisive, jazz band che ha avuto un successo enorme, dove io interpretavo la parte di me stesso. Entravo nella giuria, invece io non ero nella giuria, avevamo fatto una sfida tra il mio trio e questa Dixit & Ben. Loro avevano il pubblico dalla loro parte, per cui avevano la vittoria assicurata, e allora ci incontrammo per decidere un po' come fare, e io dico vabbè, voi date a noi, tenetevi la coppa e dateci a noi i soldi del premio e così ce la facevano, tanto era una cosa, e loro erano contenti.